Il Campo Basso ha provveduto all'inoltro della documentazione residua online per portare a compimento l'iscrizione in Lega Pro. Erano rimasti da ultimare alcuni dettagli formali che la società ha inviato questa mattina, come detto tramite mail. Tutto è avvenuto dunque entro il termine fissato dalla Lega Pro del 5 luglio. Nessun dubbio e nessun timore che la partecipazione potesse essere messa a repentaglio. Il tifo via social si è effettivamente diviso fra ottimisti e pessimisti. Tutto questo nel silenzio della società che come costume ha lavorato e portato a compimento i fatti, grazie al supporto di tante forze, fra cui non ultimo il sodalizio rinnovato con l'azienda Levigas. Gesuè e Battista hanno allungato il rapporto fino al 2024, segnale che la collaborazione instaurata un anno fa è un fatto felice per entrambe le parti. Si prospetta come una settimana ricca di novità, una serie di fatti che la società nel suo interno ha già deciso e che dovrà comunicare alla piazza come le riconferme dello staff. L'ultima dichiarazione di Cudini fu proprio nel senso di una riconferma, mentre De Angelis sta lavorando già da tempo alla Lega Pro e alla costruzione di un organico giovane sulla base di un forte e consolidato sfondo del campionato appena vinto. Tutti meriterebbero la riconferma, si è lasciato scappare qualcuno dalla società nei giorni successivi alla vittoria di Rieti. Una dichiarazione plausibile, probabilmente nella realtà poco fattibile. Ci si potrebbe attendere qualche divorzio eccellente, anche se di base il Campobasso, che ha vinto con grande merito il girone F, ha avuto un grandissimo collettivo, non qualcuno che è stato al di sopra degli altri. Tutto questo, mentre i movimenti in Lega Pro si vociferano, ma non sono ancora entrati nel vivo. Si parla di un interessamento del Catanzaro per l'ex attaccante del Teramo Bombaggi. Va pure aggiunto che rispetto al termine odierno di iscrizione, ultimo per le neopromosse dalla quarta serie, scatterà un iter condotto dalla Covisoc, che nel giro di qualche giorno darà l'essito delle istruttorie. Esattamente giovedì prossimo. A seguire, il 13 luglio, potranno essere presentati eventuali ricorsi da parte delle società escluse. Attenzione, solo i ricorsi, non le integrazioni documentali. I ricorsi verranno discussi il 14. Il 15 luglio ci sarà un Consiglio federale che si occuperà di definire gli organici. In caso di bocciature da parte del Consiglio federale, allora si potrà procedere ad eventuali ripescaggi. Nell'ambito del tifo rosso-blu si è risvegliata la passione, a dire il vero mai sopita, del commando ultracampo basso nato nel 1981. Grazie anche alla spinta di un gruppo social omonimo, i membri del gruppo storico torneranno in massa a Selvapiana. Nelle ultime settimane, via Facebook, è partito un appello dall'account del commando ultracampo basso ad abbonarsi in massa. Il ritorno fra i professionisti del campo basso porta quindi anche al risveglio di alcune vecchie passioni. In Serie D si è giocata. Sabato scorso, l'ultima di campionato, nel girone I è stato promosso la CR Messina a dispetto dell'FC, società storica messinese che rimane in quarta serie. Il Covid ha allungato i tempi in maniera esorbitante, ma al Messina è riuscita l'impresa di tornare in Serie C. A guidare i siciliani, l'ex tecnico anche del campo basso, Raffaele Novelli, ma anche il giovane difensore campobassano, Bruno Cascione, classe 2000. Ora i nomi delle nove promosse dalla Serie D ci sono tutti. Sarà il caso di verificare alcune situazioni di squadre che avevano mostrato non poche difficoltà rispetto alla partecipazione in Lega Pro. Per quanto riguarda la Serie D, il Vasto Girardi conta di scegliere entro domani la figura del nuovo direttore sportivo e di riaffidare la panchina allo stesso Prosperi. Dopo il buon campionato alla guida del Vasto Girardi, il tecnico ha sicuramente varie scelte, ma non escluderebbe di rimanere proprio in Alto Molise.